Grazie per essere qui con noi. Siamo a un convegno, si parla di Europa. Secondo lei è possibile un'unione politica in Europa e soprattutto quale potrebbe essere la forma di governo? Ma guardi, l'unione politica in Europa non solo è possibile ma è una prospettiva assolutamente da cui prendere le mosse perché in realtà noi siamo oggi di fronte ad una disciplina comune europea molto più ampia di quello che noi immaginiamo. Quindi io credo che l'idea dell'unione politica è veramente il coronamento dell'architettura finora compiuta. La forma di governo io credo che occorra un po' di fantasia, credo che la forma di governo presidenziale al modello statunitense non sia possibile, credo che la forma di governo parlamentare possa avere pura, possa avere dei dubbi. Io personalmente la mia ipotesi di andare verso una forma di governo di tipo direttoriale che è la forma di governo adottata in Svizzera, rafforzando i poteri del Parlamento, trasformando il Consiglio europeo in una sorta di seconda Camera e costruendo la Commissione come una sorta di direttorio secondo il modello svizzero.